Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Oggi parliamo un po' del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Titolo originale Birds of Prey and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace a questo video e anche agli altri così a fiducia di commentare il video con quello che ve ne pare del film di cui sto per parlare e di condividere il video con tutte le persone che possono gradire la vista di Margot Robbie. Se devo dare un titolo a questa mia video recensione lo chiamerei Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita del DC Extended Universe perché devo dire che questo Birds of Prey è davvero molto carino. Chiaramente nessuno se lo aspettava, nessuno lo aspettava perché è un film che fa parte del DC Extended Universe. Se avete qualche dubbio su cosa fa parte del DC Extended Universe, cosa non ne fa parte, vi metto qua sopra un video in cui spiego cosa è dentro e cosa è fuori. Questo film fa parte del DC Extended Universe e si sa che il DC Extended Universe non ha avuto una grandissima fortuna perché la Warner Bros. appunto col DC Extended Universe ha cercato da un certo punto di vista di scopiazzare il Marvel Cinematic Universe facendo uscire anche fin troppo in fretta film come Justice League e Suicide Squad per fare concorrenza alla Marvel ma allo stesso tempo per staccarsi da questo clima disneyano che c'è ultimamente soprattutto nei film Marvel dando un tono un po' più cupo però è stato sempre un finto tono cupo e il risultato è sempre stato un po' un pasticcio. Questo Birds of Prey eccetera eccetera sguazza diciamo in questo pasticcio soprattutto perché anche se non è davvero un seguito di Suicide Squad del 2016 comunque viene proprio direttamente da lì direttamente dal finale di Suicide Squad del 2016 e continua con i toni di Suicide Squad molto tamarri molto colorati dove i personaggi che vengono tratti dai fumetti non assomigliano tantissimo anzi non assomigliano per niente esteticamente alla loro controparte fumettistica quindi continua a esserci un Harley Quinn con dei look sgargianti ma non attinenti ai look dei fumetti la stessa cosa vale per Black Canary la stessa cosa vale per Cacciatrice Huntress Elena Bertinelli quindi diciamo per un fan che vorrebbe vedere le proprie eroine trasposte al cinema paro paro come le vediamo disegnate nei fumetti purtroppo rimarrà deluso perché questo film segue il filone lanciato da Suicide Squad in cui i costumi non sono affatto attinenti alle controparti fumettisti a parte questo questo film più che mai è tamarrissimo appunto anche sia nei costumi anche nelle scene proprio perché oltre a seguire il filone di Suicide Squad sembra proprio visto attraverso gli occhi della protagonista attraverso gli occhi di Harley Quinn quindi è quasi tutto giustificato perché così come è stato per il Joker di Joaquin Phoenix anche questo film anche se è un altro mondo ovviamente è appunto visto dagli occhi della protagonista che è anche la voce narrante quindi chi ce lo dice che quello che noi vediamo è davvero la realtà e magari non è un frutto della sua mente malata che filtra questa realtà e ci mostra quello che lei vede quindi magari in realtà non sono vestiti davvero tutti così di merda come nel film ma è la sua visione distorta della realtà e in questo gioco ci sta benissimo che i personaggi siano diversi da come li vediamo nei fumetti che siano molto più tamarri che anche cattivi come Black Mask siano molto sopra le righe anche nel vestiario se voi lo andate a vedere con quest'ottica è un film davvero ben inserito nel DC Extended Universe così ben inserito nel DC Extended Universe che mi sono posto anche delle domande esistenziali come ma se questo film fa davvero così successo al momento ha delle recensioni molto positive già su Rotten Tomatoes ha già un'ottima accoglienza al box office e si appunto rilancia un attimino l'universo esteso della DC anche dal punto di vista dei villain vi ricordo che dovrà uscire anche The Suicide Squad sequel slash reboot di Suicide Squad del 2016 che ne sarà degli attori che hanno lasciato il DC Extended Universe in particolar modo Jared Leto che ha interpretato Joker che non è stato accolto assolutamente bene dai fan che ha abbandonato il ruolo anche in modo abbastanza incazzato e che ora più che mai è difficile che lo possa riprendere dopo la performance straordinaria di Joaquin Phoenix su il suo Joker che comunque vada è una bolla a sé stante non può entrare in questo universo anche perché se così fosse perderebbe tutta la bellezza che è nata da questo film ma parliamo del film in sé il film in sé, lo dice la parola stessa, parla di emancipazione, emancipazione femminile lo fa in modo non fastidioso in un periodo, quello post-MeToo dove comunque vanno molto le commedie dove si tende a rafforzare il ruolo della donna all'interno della società e comunque dare questo senso di forza alle donne questo film nonostante sia appunto tamarrissimo nella sua esagerazione è ben collocato non strafà in questo quindi non ci sono scene forzate da quel punto di vista nella sua esagerazione è tutto ben dosato ci sono scene di lotta davvero molto belle dove si mostra sia l'agilità di Harley Quinn ma anche la forza di Cacciatrice e l'agilità stessa anche di Black Canary mi è piaciuto molto vederle combattere singolarmente anche insieme come squadra anche se diciamo che la squadra si forma durante il film mi è piaciuto anche molto il fatto che si noti come Harley Quinn prima di essere la fidanzata pazza del Joker era una psicologa, una psichiatra, una psicoterapeuta adesso non so bene quale fosse il suo titolo perché ha delle uscite da psicologa dove cerca appunto di psicoanalizzare le persone che gli stanno attorno e la cosa è molto carina perché appunto ci mostra come non è una stupida è vero ha delle uscite molto stupide ma perché questo è il suo personaggio che è molto cartunesco ma bisogna comunque giustificare il fatto che lei abbia un passato da psicologa quindi abbia studiato abbia una laurea e quindi ha queste uscite professionali e mi è piaciuto molto questo film credo che non sarebbe mai potuto esistere così come è se non ci fosse stato nel 2016 il primo Deadpool questo film è il Deadpool del DC Extended Universe perché appunto Harley Quinn appunto è la voce narrante come in Deadpool ma ci sono tanti altri film di supereroi in cui il protagonista è la voce narrante ma soprattutto guarda in macchina quindi c'è questo sfondamento della quarta parete come accadeva in Deadpool e per carità accade in un sacco di film nella storia del cinema però diciamo che nel mondo dei fumetti i personaggi che sono in un certo senso coscienti di essere in una storia di finzione sono Deadpool per quanto riguarda la Marvel e per quanto riguarda la DC Comics c'è il personaggio di Creeper c'è il personaggio di Joker ma non è così accentuato era accentuato un pochino di più nella serie a cartoni animati Batman di Animated Series del 92 vi metto un link in descrizione su una mia collezione di giocattoli su quella serie ma è più Harley Quinn rispetto al Joker che guarda in macchina e sfonda la quarta parete questo mi è piaciuto molto sia come non scopiazzatura chiamiamola citazione al film di Deadpool e sia come citazione anche al personaggio di Harley Quinn dei cartoni animati da dove appunto nasce perché Harley Quinn è nata proprio in questa serie di Batman di Animated Series mi è piaciuto molto Ewan McGregor nel ruolo di maschera nera Black Mask che è un villain in giacca e cravatta che non ha superpoteri ha molte turbe sue tra cui quello appunto di indossare una maschera di legno a forma di teschio di colore nero non conosco tantissimo il personaggio ma per quello che l'ho conosciuto io posso dire che è azzeccato come lo ha interpretato Ewan McGregor perché è sia un boss del crimine in giacca e cravatta ma è anche molto divertente comunque divertente da leggere divertente da vedere io vi consiglio molto se vi è piaciuto questa interpretazione di andare a recuperare Batman il ritorno del cappuccio rosso io ho questa edizione in due pezzi dove appunto c'è il ritorno di cappuccio rosso ma c'è anche maschera nera e qua lo vediamo in un ruolo da villain ma che è anche molto molto comico ve lo consiglio tantissimo se ho la fortuna di trovarlo su Amazon ve lo metto anche in descrizione così se lo acquistate dal mio link supportate il canale ok? tra l'altro ho letto online che la parte che abbiamo visto interpretare da Ewan McGregor è frutto più che della sceneggiatura ma molto della sua interpretazione quindi dimostra ancora una volta come Ewan McGregor sia un attore davvero bravo con questo è tutto non voglio dilungarmi oltre vi consiglio di andarlo a vedere di scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo film io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video grazie a tutti